ciao a tutti eccoci alla quarta sessione di black sky questa cronaca di legacy la seconda edizione è passato un po' di tempo tant'è che adesso inizieremo con un passaggio di era perché nella scorsa sessione sono state un sacco di cose fondamentalmente è partito un drappello di in qualche modo di missionari di ogni tribù per andare al tempio del demone tricornuto questo grosso cilindro di cemento fuori dalle homeland è partito fondamentalmente herger e jenny herger è il un inviato dell'orda jenny invece è una architetta nelle homeland invece iniziano ad esserci un po' di tafferugli perché il modo di pensare dell'orda inizia a rifondersi e la gente inizia a diventare sempre più violenta oltre al fatto che brunilde che è una un membro dell'orda che ha a un certo seguito inizia a criticare le usanze di bjorn che è l'attuale leader dell'orda lo accusa di essere troppo tradizionalista e quindi lo in qualche modo lo sfida formalmente a duello e tutta la gente della homeland che inizia in qualche modo ad essere influenzata dall'orda è entusiasta di questo duello che si sta per tenere che diventerà un grandissimo evento tra cui tra l'altro parteciperà anche il carnevale perché il carnevale non si fa mancare mai nulla quanto ai venti anche se i pezzi grossi del carnevale sono interessati a fare dei piani per pugnalarsi l'un l'altro alle spalle Willem dopo che è stata uccisa Cecilia è stato cacciato via dal carnevale ed è arrivato nel luogo in cui si sono ritrovati i guardiani che erano una tribù che manteneva l'ordine prima che arrivasse l'orda ma che è stata scacciata via da un'alleanza orda-carnevale è andato lì perché in qualche modo vuole convincere a fare un corpo di stato contro il Maximilian che è l'attuale in qualche modo leader dell'oligarchia del carnevale lui si introfola nel museo che è la sedia del carnevale e ruba la tuta e il contattore Geiger che erano stati donate dalle sacerotesse del demone per andare al tempio ma in qualche modo il drappello di gente del carnevale che stava andando a cercare i guardiani viene esterminato e questo genera un grande allarme all'interno del museo tant'è che Maximilian decide di scappare Willem conquista il museo ma va a cercarlo verso sud verso sud dove pare si siano stabiliti gli esploratori tant'è che Fish dopo che è stato esiliato perché gli è stata data la colpa dell'uccisione di Simon da parte dell'orda che lo ha sacrificato è andato alla ricerca dei vagoni perché lui vuole ricostruire una vecchia ferrovia che unisca tutti i punti di interesse della zona mentre lì ha incontrato questa figura coperta da un sacco di teli che dice di venire verso sud e gli dice anche che a sud in questo in qualche modo bazar degli esploratori ci sono delle medicine quindi Fish torna in qualche modo dagli altri architetti gli dice che ha trovato dei vagoni per rimettere in sesto la ferrovia e che se vanno su troveranno delle medicine per curarsi dalle colpi di pistole e di manganellate che hanno ricevuto quando gli scavenger hanno conquistato la cima del grattacielo con le paleoliche tra gli esploratori Fish riesce effettivamente a trovare le medicine ma parallelamente anche Willem trova Maximilian Maximilian in qualche modo aveva pagato delle guardie del corpo lo fa catturare lo sta per eseguire ma Willem dopo avergli detto di cercare di fare un'alleanza a loro due e in qualche modo conquistare tutte le homeland Maximilian non ci casca sta per sparare ma Willem gli dà anche lui un colpo di grazia con un coltello e si uccide una vicenda e proprio in questo momento sta arrivando una grandissima tempesta di sabbia parallelamente Brunilde e Bjorn hanno questo grande duello in cui Brunilde effettivamente uccide Bjorn e quindi diventa lei la nuova capa dell'Orda con grande giubilio di tutti gli abitanti delle homeland che iniziano a festeggiare nel modo più violento che riescono a concepire verso nord invece al tempio del demone Erger e Jenny arrivano effettivamente e Jenny si accorge che potrebbe in qualche modo giustarlo lei ha le conoscenze lei viene dalla tribù degli architetti sono le persone che da prima del Black Sky Event quando andate via tutta la corrente dal mondo si sono tramandati le conoscenze lei sa che è una centrale nucleare e potrebbe anche in qualche modo evitare che il nucleo si fonda e aggiustarla e creare energia Erger però ha paura che quello sia un demone effettivo e si è portato presso una mina che ha costruito rudimentale che gli esplode Erger viene spazzato via Jenny viene ferita gravemente e con l'ultimo soppio di vita Erger gli dice di dire a suo fratello Ivar dargli una runa che ha inciso e di uccidere il demone al posto suo non sappiamo ancora che fine ha fatto Jenny ma Ivar in qualche modo sentirà questo bisogno di prendere il posto del fratello ora visto che abbiamo terminato la sessione scorsa con questa tempesta si sa perché sta arrivando le cose iniziano a cambiare anche perché è cambiata la leadership del carnevale gli architecchi si stanno imbarcando in una missione molto grossa di riparazione della centrale nucleare o di costruzione della ferrovia e Lorde ha cambiato anche il loro leader abbiamo deciso che facciamo passare un'era come funziona? c'è una mossa apposta che si chiama il tempo passa quando passano anni o generazioni o in realtà quanto vuoi perché il manuale ti dice espressamente che puoi cambiare la durata delle ere quanto vuoi quindi in realtà passano un paio di mesi tiri il tuo mood attuale quindi uno per uno tirate più il vostro mood quindi inizia I Lorda con un più zero ok tiro subito sei ok quindi Lorde ha fatto quattro ora tirano gli architetti con un meno uno iniziamo bene tre stai tirando da di là sei ok e ora il carnevale con meno tre che invece farà dodici due di sei meno tre proprio sì che vergogna te l'hai tirata ok quindi grazie fondamentalmente ora che avete tirato a turno eseguite la mossa quindi sia Lorda che gli architetti siamo da Lorda che è il primo che ha tirato scegliete due sofferenze c'è un elenco apposta di non so come tradurre fortunes in qualche modo sono opportunità o sofferenze sì 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 quindi te le leggo così anche gli architetti poi possono scegliere sono cose belle però queste qua sono cose brutte ma che hanno anche un payback sì sì sono generiche voi ne scegliete una e poi in qualche modo decidiamo che cosa è successo allora la tua tribù soffre dalle persecuzioni e violenza ma viene spinta da essa ad adattarsi a crescere guadagni una nuova mossa di famiglia ma guadagni need vendetta la tua famiglia è stata schiavizzata da un'altra solo di recente si è liberata prendi la mossa dal loro libretto e loro prendono due trattati con te oppure povertà e fame hanno forzato la tua famiglia a saccheggiare e a dirubare e ha fatto arrabbiare delle persone guadagni tre surplus che vuoi ma dai due trattati ad altre due famiglie qualcosa di mostruoso sta uscendo dalle wasteland e se l'è presa con la tua famiglia di qualche segreto che hai imparato e guadagni due tech dalle parti che hai in qualche modo da quello che hai imparato ma prendi di svantaggio sulle tue mosse di famiglia contro di essa può essere una cosa una mostruità anche tra virgolettata tipo la tempesta di sabbia o il demone oppure una malattia o una peste sta decimando la tua famiglia e nessuna altra famiglia può aiutarti dopo hanno promesso il tuo aiuto hanno promesso il tuo aiuto in futuro guadagni tre trattati divisi come vuoi ma i need medicine oppure la tua famiglia ha salvato le homeland da una grave minaccia che sia un disastro naturale o un'armata di invasori ma da un grosso costo hai più uno rich ma hai e surplus motivation ma prendi need reclute in realtà motivation sarebbe morale vabbè surplus morale e need reclute oppure la tua famiglia cade a pezzi in tante fazioni in guerra tra di loro l'eventuale gli eventuali vittori sono forti più uniti ma grezzi hai più uno grasp e surplus leadership ma hai need cultura poi i need in realtà li vediamo meglio perché abbiamo una lista più ridotta in modo che siano sempre quelli oppure il disastro ha sparpagliato la tua famiglia ha abbandonato le tue case ma sai come stare nascosto quando passa il casino guarda ne più uno slate e surplus spie ma prendi need terra quindi sceglie prima lorda allora per come abbiamo stabilito in fiction lorda ha senso la terza e la quarta ovvero o l'opzione è quella che c'è un impoverimento e quindi le risorse le abbiamo prese saccheggiando razziando uccidendo che oppure che effettivamente noi siamo stati colpiti da da un qualcosa che insomma ci è venuto dalla wasteland che sia che che siano con le radiazioni o la tempesta sì allora allora sarò molto noioso e scelgo l'opzione 3 quella del saccheggio devi sceglierne 2 tanto ah 2 ho detto male devi sceglierne 2 tranquillamente allora tutte queste 2 qui va bene partiamo dalla seconda che va definita fai conto che sono comunque dei bonus sì esatto ti dà comunque anche un payback sì sì dicevo cos'è che ti ha ferito è la terpesta di sabbia o le radiazioni allora a me piace che evidentemente con la scusa che abbiamo stabilito che c'è una centrale nucleare che fa leaking cioè si sta si sta rompendo le radiazioni in zona si stanno aumentando e per una qualche ragione probabilmente perché sono più presenti nell'area nelle aree infettate da radiazione i vari i vari membri dell'orda si stanno ammalando tipo la radiation sickness e quindi stanno iniziando a quindi hai svantaggio nelle mosse tue di famiglia contro le radiazioni o se le radiazioni possono darti fastidio ma prendi due tech che sarebbero le cose per proteggerti dalle radiazioni quindi tu vai a tech 3 e vuol dire che i superstiti hanno anche le tute eh si a sto punto ne sono morti un po' non troppi perché comunque non sei in need di reclute e quelli che hanno hai trovato ti sei fatto dare o hai trovato il modo di in qualche modo costruire almeno delle cose che schermano in minima parte dalle radiazioni e tutti indossano queste armature tra virgolette per proteggersi dal demone con sulle rune mi immagino poi direi tu come sono fatte e l'altro invece è che inoltre per sopravvivere saccheggi di rubi ora mi devi mi dovrei dire i tre surplus che vuoi va bene prima di tutto mi devi dire da chi vai a rubare puoi scegliere o il carnevale cioè devi sceglierne due se non sbaglio sì no sì che riceveranno due trattati perché li hai derubati e sono quelli che hai segnato qua architettic arnevale guardiani sacerdotesse mangia carbone esploratori mi devi ricordare chi sono i mangia carbone perché un attimo di mangia carbone sono quelli che abitavano vicino alla stazione a cui ha fregato fish e i vagoni li abbiamo menzionati per un secondo non si sa non li avevamo neanche mai visti non sappiamo bene cosa fanno però esistono sono fuori dalle homeland e sono accampati vicino alla stazione abbandonata allora che mi sembra che ho segnato vediamo se sono stato bravo sì e gli esploratori invece sono sono quelli che stanno a sud sono quelli che sono che vanno alla ricerca della prima città sì sì sono indossati dipinti come due ciccioni avevi detto i tre esatto i tre capi erano i tre ciccioni che non vanno da nessuna parte stanno lì a dare ordine alla gente mentre gli altri sono orribilmente magri e coperti da questi stracci per la polvere perché evidentemente andando a sud e devono esplorare dentro la tempesta di sabbia quindi tutti sono vestiti con questi pesantissimi abiti che proteggono gli occhi e però sono anche dei grandi mercanti perché avevano tipo le medicine i guardiani i guardiani allora ha senso che oppure c'è comunque anche il carnevale e gli architetti disponibili sì sì volevo allora volevo coinvolgere una fazione NPC e una fazione di voi ragazzi volevo fare una e una allora grazie ragazzi sicuramente stavo valutando l'idea che con gli esplora abbiamo preso tipo la medicina sicuramente dagli esploratori ok probabilmente con la scusa che ci siamo ammalati eccetera sappiamo che questi qua hanno le medicine e le abbiamo praticamente razziati brutalmente beh giustamente hanno le medicine noi ne abbiamo bisogno e noi le prendiamo e Pingsa allora ho una domanda engineering velocemente mi ricordi che cos'è sono ingegneri cioè proprio un manodopera specializzata ok a differenza di progress che le progress sono le conoscenze tecniche allora questo voglio chiedere il permesso a agli architetti se io ti ho rubato engineering o progress a te starebbe bene tanto non lo perdi eh si non è che lo perdi ti ho razziato parte delle conoscenze cioè alcune delle tue conoscenze ce le ho anche io te sta bene yes volevi dire qualcosa gav no ti guadagni anche del triti nel secondo fronte quindi si si no no c'è è controbilanciato però siccome coinvolgo appunto te non cioè Marco non volevo non volevo prendere una quindi devi scegliere ancora uno però non non devi scegliere più nessuna famiglia ah un altro un altro plus che vuoi che hai preso nelle razzie ok diciamo il progress probabilmente per evitare cioè per come merce per non ucciderli ti sei fatto dire delle nozioni di di bioingegneria ma ma anche solo per dire come li possiamo riparare efficacemente i mezzi le cose sì esatto i veicoli ma io direi i recluter ok quindi te lo levo da del resto delle coltelle sono talmente tante che sono slegate dalle armi sì e se i mood 3 bene ora la stessa cosa li fa gli architetti allora mi piaceva la prima perché l'idea che noi siamo tutti sparpagliati e nelle homeland c'è tutta questa violenza che cresce mi sembra proprio corretta la prima your family suffers persecution perché tutta questa violenza vedono che noi siamo persone non abituate a combattere che non abbiamo difese e quindi in buona parte ricade su di noi ok e che ancora più silenso allora che ti abbiamo brutalizzato eh magari esatto mentre fra le varie persone che ci sottomizzavano c'era anche qualcuno di voi infatti lui dice prendi need revenge vabbè è justice invece che revenge ma è uguale i architetti vogliono giustizia dall'orda e questo che causa malcontento però questa cosa cioè essere stati bullizzati e tiranneggiati dall'orda ti fa diventare più forte più unito sblocchi una mossa dai team della famiglia ok posso dirti subito anche l'altra sì 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 eh mi piaceva quella della la plug cos'è una pandemia la pandemia sì la esatto c'è mi era immaginato che il buon fish quando prendeva questi vagoni si era tagliato nel momento in cui stava spostando questi oggetti di ferro lì sopra c'era un qualche tipo di batterio virus che lui ha preso è tornato a casa nelle homeland e parlando abbracciando gli architetti senza volerlo l'ha l'ha fatto passare a tutti quanti quindi adesso sono lì per tetano lì per tetano quindi c'è una pandemia di tetano nelle homeland e poi la malattia sceglietela voi non è importante sì sì però tutti noi siamo 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 malattici ecco più che altro più che cos'è dimmi com'è che la chiamano mi interessa di più anche perché non so se il tetano sia specificamente contagioso contagioso esatto cioè si è messo il ferro nelle mani lo chiamano questo proprio non lo so quindi metto le mani avanti lo chiamano il silenzio perché è una malattia che fra le tante cose che tocca è anche la laringe insomma le corde vocali e quindi le persone che sono molto malate non riescono neanche più a parlare diventano afone ok esatto come me adesso cosa vuol dire morale justice medicine quindi vai a mood meno tre chi sono le famiglie che hanno detto ti aiutiamo a farla passare sta cosa devi sceglierne tre allora una sicuramente non devi sceglierne per forza tre tu hai tre trattati da dividere come vuoi puoi anche dire soltanto il carnevale me l'ha detto e prende tre trattati su di lui no vabbè magari solo due cioè due solo su di lui perché andando da loro loro ci dicevano ma hai bisogno delle medicine cioè io ho una pianticella che ho piantato dietro l'angolo che ti cura tutto sarebbe qualcosa che fremma effettivamente e noi le prendiamo e lì per lì magari stai bene però quando finisce l'effetto poi ritorniamo a stare male come prima quindi inoltre immagino che il carnevale gli interessi che passi sta roba beh magari perché finiamo con attaccarla pure a loro dici e sì comunque nelle home blend c'è e poi l'ultimo lo volevo fare agli stessi che mi avevano dato le medicine prima perché magari esatto sono andato da loro gli ho detto la cosa e visto che loro avevano le medicine mi hanno detto stai fermo lì che forse riusciamo da qualche parte a recuperare qualcosa e poi qualcuno è arrivato lì e gli ero dato tutte le medicine quindi sono rimasti un pugno di mosche esatto ok ora invece allora il carnevale ha fatto 7-9 quindi intanto ti prendi un tech se non sbaglio sì e scegli poi una sfiga e una fortuna il tech visto che anche l'ordine ha presi vi ricordo che li potete usare per quando fate le mosse base di famiglia per tirare con vantaggio spendendone una quindi intanto do una in più di tech al carnevale che va tech 2 e leggiamo anche per chi ci sente le sfortune le ho già lette e leggo tutte le fortune allora la tua famiglia passa un'età dell'oro mettendo in dubbio le vecchie filosofie e creando nuovi modi di pensare guadagni una mossa di famiglia ma guadagni come need leadership tramite trattati e matrimoni guadagni le punti di forza di un'altra famiglia prendi una mossa dal loro libretto ma prendi cioè loro prendono due trattati con te la tua famiglia spende tempo facendo patti e facendoti nemici cancelli due surplus dannogli via come doni e mercanzie ma guadagni tre trattati divisi come vuoi la tua famiglia trova un luogo nascosto e ancora intatto del mondo di prima di che tesoro conteneva guadagni due tech dall'iniziale scoperta ma avendo passato tutta questa questa era a studiarla sei isolato e hai need trade la tua famiglia trova odio in fondo mi ricordo cos'è è una manna dal cielo ok trova una figata un colpo di culo esatto trova una figata o ricercando nelle wasteland o trovandola da una famiglia più piccola tipo in civilization quando vai nei accampamenti dei barbari guadagni 3 surplus la tua scelta ma ti rendono viziato guadagni need acidioso la tua famiglia che poi vedremo bene come tradurlo cioè come prenderlo dalla lingua che abbiamo la tua famiglia costruisce un posto di sicurezza e commercio creando un nuovo paradiso in questa terra guadagni un reach e surplus pace ma e need obbligazioni obbligazioni vai in guerra per spoglie o giustizia guadagni un grasp e surplus armi ma qualcuno si incazza con te hai svantaggio su tutti i reach contro di essi fin quando non li li affronti una volta per tutte una serie di di discussioni pubbliche hanno causato vari membri della famiglia di andarsene ma tu era proprio quello che volevi le loro case gli esoli ti mandano report regolari delle attività di quelli che li ospitano guadagni un slate sul plus pie ma need reclute allora prima faccio la fortuna sempre allora per prima cosa direi il windfall colpo di fortuna ovviamente penso che una diciamo dopo un periodo di diciamo pugnare la sua vicenda non solamente diciamo i dirigenti del carnevale hanno deciso di calmarsi non solamente e fare quello che fanno meglio cioè godersi la bella vita spargere cose eccetera eccetera e quindi diciamo la relativa pace ha provato diverse famiglie a diciamo meglio diversi gruppi di persone a decidere di unirsi come sussidiari eccetera eccetera metterei tipo prenderei come surplus artisani prestigio e safety e quindi cancellare quei inizi va via safety va via e lui ti dice di mettere a cirioso e ti metto come need progress e non è tipo morale e ti dice need morale no dice need idle ah allora sono diverse ah aspetta un attimo che magari ce l'ho tu stai guardando da dove dal del rulebook che mi dice questo proprio dal manuale del manuale mi dice ti ha lasciato ti ha lasciato ok allora è giusto questo perché io guardavo nella mossa quella che trovi a pagina vententi delle schede ok se guardi ti dice need idol si si mi sa che questa è quella giornata si si che è giusto che hanno messo un elenco unico di tutto allora hai preso morale come sfiga quindi ok esatto quindi vai a mood meno 2 anche artigianisti cancella ah scusami te l'avevo scritto in surplus invece quindi sei in surplus di lusso ok need leadership ha senso progress e no progress te l'ho giunto adesso non ce l'avevi scusami morale quindi vai a meno 1 ok e come seconda come sfiga invece di riuscire la sfiga esatto io speravo di prendere una sfiga perché vado a fare questo e il disastro ha sparso la mia famiglia esattamente dopo il primo periodo di diciamo diciamo di relativa diciamo gloria splendida eccetera i guardiani con cui eravamo in guerra da un bel po' un po' di tempo eccetera hanno effettivamente reclutato diciamo abbastanza supporto eccetera eccetera e dato che noi siamo comunque un po' una merda a combattere essenzialmente con una piccola elite di persone sono entrate nel carnevale cioè sono entrate nel nostro grande museo e sostanzialmente hanno cacciato via tutti hanno fatto delle vittime però diciamo hanno più fatto in modo che il carnevale perdesse i propri possedimenti cioè essenzialmente il grande museo e quindi da appunto quindi i guardiani sono lì adesso adesso i guardiani sono lì noi abbiamo perso il museo e sostanzialmente siamo passati a uno stile di vita più nomadico non so se questo cambierebbe il lifestyle o meno ma non ha nessuna conseguenza quindi se vuoi puoi aggiornarlo sì diciamo che l'aggiorno in realtà a conseguenza sì cambiano cambiano da settled a undisperse quindi quando ha disperse ok è sparsa nei vari territori sì quindi prendo un più uno in grass eh no scusami in slight sì perché siamo più sneaky perché siamo un po' ovunque e prendo need terra certo siamo senza terra sì perché non è più il museo ha senso quindi need land e vai quindi a morale meno due ok per completare la mossa quindi abbiamo visto fondamentalmente che lorda è un gran disastro ecco questo abbiamo visto sì sì esatto lorda fondamentalmente ha iniziato ad ammalarsi di questa malattia delle radiazioni ha capito che è l'influenza del demone credo che tra l'altro poi vabbè lo vedremo con con lorda insieme c'entra forse quello che è successo alla centrale ma iniziano fondamentalmente a prendere delle misure di sicurezza e si vestono in modo da proteggersi dalle radiazioni viceversa però iniziano a razziare parecchio tra cui gli architetti e gli esploratori gli architetti invece pretendono giustizia per essere stati razziati dal dal lorda tra l'altro che mossa hai preso che non te l'ho chiesto ah giusto aspetta è anarchina class quando il tuo personaggio scopre un segreto nascosto nelle wasteland spendi data per rivelare qualcosa c'è un sacco di cose belle esatto un passaggio sicuro una risorsa naturale una barriera un rifugio però durerà soltanto per questa era forse un po' di più ehm quindi comunque sì quindi ehm sia questo ma sia anche diffusa la malattia del silenzio che in qualche modo quando si è grave inizia a far diventare afone i host della della malattia e e quindi ha bisogno di medicine per guarire da questa cosa e comunque la malattia del silenzio inizia a diffondersi per le wasteland il carnevale invece l'avevamo appena visto è stato cacciato dal museo perché i guardiani si sono l'hanno riconquistato perché ormai c'era poca gente lì si sono sparpagliati in giro per le homelands e però hanno in qualche modo visto che è successo prima il l'arrivo delle persone e poi fondamentalmente questa lotta di leadership quindi è stata una in qualche modo una minietà dell'oro finché è durata ora visto che la volta scorsa sono morti ben due ah no scusate bisogna finire la mossa dell'era la mossa dell'era dite potete fare i seguenti cambiamenti ecco infatti me lo chiedeva il carnevale c'è proprio scritto adesso ok dovete dire che cosa è successo alla famiglia in questa era fatto potete cambiare se ha senso dottrina lifestyle gear e tradition e l'avevamo fatto perché il carnevale è diventato disperso e vediamo anche la leadership può cambiare poi aggiungiamo una minaccia opportunità e fazione sulla mappa fatto aggiusti i elementi della mappa a seconda delle fortune e delle sfortune e scegli se tenere il personaggio vecchio o muover o cambiarlo o farli cambiare playbook quindi vabbè fish non ti ho chiesto se vuoi che cambi playbook no mi sta bene così com'è ok invece vabbè in realtà lord al carnevale non glielo chiedo perché gli sono morti quindi andiamo a presentare i loro due personaggi nuovi e poi vedremo fish cosa ha fatto nel frattempo quindi ah sì comunque ho visto è solo fluff questo ma dato che si sono dispersi ogni diciamo membro del consiglio di amministrazione invece di diciamo governare insieme adesso è diventato una specie di mini capo tribù e si incontrano solo ogni tanto quindi è diventato più patriarcale o no patriarcale secondo sì in realtà sono un gruppo di famiglie tiranniche nemmeno cioè sono considerati tipo dei re diciamo per fare un esempio un po' brutto è un po' come i re e le regine degli zingari sostanzialmente sì sì no chiaro cioè nel senso è come i re normali ma invece di avere il regno hanno i seguaci e basta esatto esatto ok quindi dicevo partendo da Lorda presenta il tuo personaggio nuovo allora il mio nuovo personaggio è Aivar il fratello di il fratello maggiore di Erger questa figura è molto particolare perché in origine era uno dei logotenenti dell'Orda tra virgolette era uno dei insomma di di Bjorn quando ancora dovevano arrivare nell'Homelands Ivar era famoso per essere violento brutale e spietato ma soprattutto davvero incontrollabile era era letteralmente cioè non Bjorn faceva fatica a controllarlo infatti quando sono arrivati nell'Homeland e hanno mosso guerra ai guardiani con il supporto del carnevale che sostanzialmente li ha spinti a fare la guerra Aivar si è dato la pazza gioia e ha dimostrato per l'ennesima volta a Bjorn che questo elemento incontrollabile era una mi viene da dire in inglese liability un problema quindi l'ha sostanzialmente bandito con la morte di Bjorn a seguito del duello per il dominio dell'orda tra Brunilde e appunto Bjorn e soprattutto anche con la morte di Erger Brunilde ha riaccettato momentaneamente Aivar facendolo tornare tra virgolette nei territori dominati dall'orda principale inizialmente solo per assistere al rito funebre del fratello che è una sorta di pseudo versione idealizzata vichinga c'è questa grossa pira con i suoi oggetti personali dove viene dato fuoco e sostanzialmente si consuma il funerale ma poi è stato Brunilde ha deciso di tenerselo insomma buono per il momento anche perché con tutti i casini che stanno succedendo Aivar è venuto a scoprire della morte del fratello e cosa l'ha causato si è preso sostanzialmente la briga di voler sconfiggere o distruggere il demonetricornuto fisicamente Aivar si presenta come un uomo completamente ricoperto di tatuaggi sfatto imbruttito da cicatrici ustioni e bruciatore che creano una sorta di mostro a livello visivo perché immaginatevi questo quest'uomo stracolmo di tatuaggi e per niente rassicuranti cicatrici ustioni e ferite cicatrizzate male vestito ovviamente con i soliti vestiti di cuoio borchie dell'orda e una particolarità è che lui sulla sua giacca l'ha completamente adornata di distintivi trofei presi dai cadaveri dei guardiani uccisi quindi immaginatevi che la sua giacca è una cornucopia e allo stesso tempo un promemoria di dei massacri compiuto con tutti questi distintivi da poliziotto ex poliziotto eccetera che ammaccati insanguinati erogeniti che adornano la sua giacca e questo è sostanzialmente Ivar ok invece il generale figliolo che va in giro con tutte le piastrine però le piastrine sono orecchie mozzate invece il personaggio del carnevale allora si chiama Joshua ed è sostanzialmente poco più di un ragazzino diciamo in anni in vecchi anni sarebbe non più di un sedicenne sostanzialmente in realtà Joshua non è mai vissuto insieme agli altri membri del carnevale per un motivo diciamo che lui effettivamente non sa è stato sostanzialmente cresciuto da una specie di tata che lo ha custodito per un diciamo fino a diciamo un'età di più o meno 14 15 anni diciamo proteggendolo ed educandolo però nelle wasteland quindi è una specie di diciamo di bambino diciamo ridinegato senza neanche sapere il perché e lui stava benissimo così fino a quando effettivamente non è venuto fuori che diciamo non hanno sentito notizie del diciamo della caduta del museo e dello sparpagliamento diciamo delle delle sue genti e la presa nonostante non avendo mai partecipato però l'ha presa come momento sostanzialmente per diciamo portare la gente del del carnevale a fare qualcosa di più perché diciamo è completamente estraneo alle diciamo le maniere di vita diciamo lussurose edoniste della maggior parte di membri del carnevale sostanzialmente quindi ha visto questa questa diaspora come effettivamente un modo per diciamo migliorare cambiare le homeland e quindi diciamo sostanzialmente è ritornato diciamo nelle famiglie a quel punto con la morte di Maximilian e quella di Willem e la buona parte della diciamo diciamo degli anziani eccetera comunque si possono essere più interessati ai giochi di potere nessuno non sa più chi è perché è stato cacciato quindi tutti l'hanno accettato senza particolari problemi come mondo il carnevale ok la tata è morta è morta anche lei ma è morta di cosa di mistero sì generalmente non credo che Joshua sappia neanche di cosa è morta ci sono varie cause di morte che alleggiano nell'aria esatto quindi era anche abbastanza vecchia e quindi non ci ha fatta diciamo non ci ha fatta l'ha abbandonata ok perfetto eccetera e invece Fish com'è com'è adesso che è passato qualche mese cosa sta facendo e com'è si è cambiato si accettano cose anche romantiche che non le hanno a che fare con la fiction o deve essere qualcosa ok a me piaceva l'idea che lui aveva stretto un rapporto con la primissima ragazza che avevamo trovato quella che era finita sotto le macerie a cui aveva steccato la gamba e che avesse avuto tempo di ritornare da lei stringere un rapporto con lei e magari che adesso si sono anche messi insieme e magari addirittura lei è incinta tra l'altro lei è l'unica con un nome che è Medea perché glielo ha dato mi sembra Maximilio qualcuno di noi esatto eravamo qualcuno di noi in realtà quella era un'altra proprio possiamo far dire che era la stessa no era l'altra che era andata era di vero allora se è un'altra dito come si chiama Asia ok quindi è Fish d'Asia che sta insieme ad Asia che è sacerdotessa ed è incinta esatto appena scoperto che aspettano un bambino insieme quante red flag vuoi staccare se è un personaggio esatto ok a questo punto dico Ivar che cos'è che sta facendo che cos'è che stai facendo adesso qual è la sua preoccupazione principale allora Ivar la sua preoccupazione principale è probabilmente tenersi buona Brunilde per permettergli di stare il tempo che basta per raccogliere informazioni sul demonetricornuto e andare ad ucciderlo perché ovviamente lui nel tempo in cui è stato per i cazzi suoi ha imparato ha ci ha imparato ha scoperto che effettivamente l'esilio gli piace stare in esilio però ha bisogno di stare nelle homeland perché nelle homeland ci sono le informazioni che a lui servono per vendicare il fratello quindi attualmente ti rendi anche conto che hai bisogno anche delle armature che hanno come che sono? allora io premetto questo chiedo anche agli spettatori eventualmente di rompere un po' la sospensione di incredulità perché ovviamente sappiamo tutti come sono le trute anti-radiazione ora loro le hanno rielaborate e resi a metà tra delle armature o delle mantelle ricoperte di rune o di ammennicoli che gli danno un aspetto molto più inquietante e ora e soprattutto non sono il classico giallo fluorescente no ma senz'altro non sarebbero state gialle perché diciamo le hanno messe insieme con le robe che hanno trovato in giro i materiali che vagamente schermano non hanno chiaramente la potenza di una tutta vera quindi bene o male puoi farle come vuoi ma poi potresti dire che in realtà hanno tipo delle lastre di piombo addosso ma io mi immaginavo delle cose del genere a metà tra delle mantelle tipo tipo quelli impermeabili del resto tu hai il corso di progress quindi può essere che ti sei fatto spiegare come fare sì sì e quindi rompendo un pochetto la nostra sospensione in crudolità immaginatevi delle pseudo armature con delle incisioni ironiche fatte di lastre di piombo materiali isolati e delle mantelle e robe di questo tipo fine ok Brunilde è nel suo nel suo campo e ha chiamato Ivar a sé ok Brunilde diciamo tu è da un bel po' che non non avevi a che fare con con l'orda con i capi dell'orda a Ivar com'è che gli sembra Brunilde rispetto all'ultimo capo che aveva visto flaccida e poco decisa si si diciamo che lei è un po' una 5 stelle cioè era brava ad andare contro ma quando va al governo non è tanto capace andiamo in politica in live ok 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 e questa cosa un po' traspare da da lei cioè si vede che è in qualche modo la cosa che ha di fronte è più grande di lei e allora ti dice guarda so che tu sei stato esiliato dalla tribù dall'orda ma ti ho voluto dare un'altra occasione non solo per seppellire tuo fratello si si per si che per poi seppellire come ti ho detto facciamo le pire funebri però ok per mandarlo nel val per onorarlo abbiamo bisogno Bjorn tu l'hai fatto in tempo a conoscerlo Bjorn ti chiede lei eeeh Ivar ridacchia e dice è stato è lui lo stronzo che mi ha esiliato ma era uno stronzo con le palle quindi beh lei incassa un po' e dice ecco lui non 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 riusciva a vedere che i tempi stanno cambiando abbiamo bisogno di un posto dove stare ormai le western stanno diventando sempre più inospitati non possiamo andare avanti a razziare ci faremo troppi nemici già adesso eh le le tribù qua attorno si stanno organizzando dobbiamo trovare un un posto dove stare e so che hanno appena cacciato il carnevale dal museo sono tornati i nostri vecchi nemici i guardiani se se tu riesci a cacciarli potrai stare qua nella tribù come un eroe ma non voglio ma non voglio che tu vada al al tempio del demone ho bisogno di te qua senti mettiamola così Brunilde e il tono è chiaro non è chiaramente di sfida ma il fatto che non ho usato titoli onorifici e l'ho chiamata diretta per nome probabilmente è già una sfida di per sé dico ehm ti dico esattamente quello che farò mi prenderò alcuni dei tuoi uomini farò come mi hai chiesto ehm mutileremo uccideremo decapiteremo bruceremo ehm ogni singolo guardiano rimasto dentro quel cubicolo di pietra che voi e gli altri chiamano museo non mi interessa moriranno tutti ti lascerò le wasteland immacolate del loro sangue ma una volta fatto questo io voglio ehm tutte le ultime informazioni riguardo al demonetricornuto ho uno ho una saga da compiere e questa saga esige che io vada a prendere la testa del demonetricornuto e ehm vendicare la morte di mio fratello Erger non posso non non posso che fare questo sarebbe contro i nostri principi e te lo dico e te lo dico con tutta franchezza se mi fermerai o cercherai di ostacolarmi avrai un nemico se invece mi lascerai fare per il tempo che starò qui puntami in una direzione e io ti farò piazza pulita di ogni singolo nemico la sto ehm in termini tecnici è una sorta di ehm imposizione intimidazione ehm ovviamente sto e questo è il punto ehm se lei non so se questo triggerà una mossa ma tu vuoi il permesso di andare dopo aver salvato il museo cioè dopo aver messo in sicuro il museo andare dal demone cosa che lei ti ha improibito invece ehm sì io io sostanzialmente gli chiedo questo io dico io ti ehm io ti aiuto guarda se tu non stai triggerando la mossa adesso perché lei dice finché tu dice ah no beh però tu stai pretendi adesso che lei ti dia il permesso cioè tolga il veto fondamentalmente sì cioè lui lui non vuole essere vetato lui dice io anche senza veto faccio quello che mi hai detto perché a me ma siccome la stai comunque intimidendo su sta cosa sì sì quindi tira più force ok ed è un defuse perché stai scalando la situazione tesa che lei non vuole che nessuno vada al tempio e tu invece vuoi sì non adesso però comunque però gli stai chiaramente dicendo guarda che comunque prima o poi ci vado e non me lo puoi negare sì perché faccio quel cazzo che voglio perché io sono pazzo 14 ok allora con un dg più la situazione diventa tranquilla lei quindi vedi cioè tu hai visto giusto vedi che lei è una fondamentalmente che è debole cioè è una debole non ha tanto carattere era brava a aizzare le folle contro contro Bjorn perché prometteva qualcosa di diverso ma adesso non sa che pesci pigliare e quindi un po' piega la testa che vedi che è un segno che non dovrebbe un leader fare mai e dice va bene non mi metterò di fronte al tuo alla tua epopea ma fai come ti ho chiesto non solo per me o per te ma per l'orda io rido e dico scolpirò una saga degna degna di essere ricordata e poi mi avvicino verso di lei e gli sussurro a bassa voce continua così e non ci vorrà molto prima che qualcuno ti faccia a pezzi sei debole vedi di tirare vedi di farti crescere i coglioni donna e poi me ne vado vedi che lei inizia a tremare come se gli avessi detto una verità che lei sa e te ne vai Joshua a te giunge voce che un drappello dell'orda stia organizzando un attacco al museo dove sei e cosa fai dato che comunque non siamo nomadi ma sostanzialmente siamo un po' ovunque come a questo punto gli architetti ma molti di più in numero potrei benissimo essere anche nei territori controllati dell'orda come nel suo campo vuol dire perché lui non ha territori controllati c'è un campo che ogni tanto sposta nelle homeland quindi può essere benissimo lì quando esce dalla tenda la mia idea è che insieme a tutte le persone delle wasteland che hanno alzato quando hanno fatto quel tiro c'è anche almeno un manipolo di diciamo di diciamo di carnevale diciamo tra la gente ah sì sì che è stato ospitato nel campamento dell'orda a tirare il formale dell'orda certo solitamente giusto c'è un po' un teneroni quindi è possibile che stia anche badando a per esempio i feriti diciamo credo che faccia quello solitamente cerca di diciamo di badare ai ai feriti del diciamo dell'orda sia quelli nei combattimenti e cose del genere tu hai sentito cioè fondamentalmente eri di fianco alla tenda quando c'è stato questo scambio vedi Aiva riuscire e sai che se mantiene la parola data andrà con un rappello di uomini a conquistare il museo Joshua non è tanto interessato al museo in sé perché per lui non significa nulla però dalla discussione che ha orviato sa che sarà un massacro essenzialmente quindi dice con un certo coraggio diciamo si avvicina essendo un adolescente a una copertura abbastanza minuta anche se diciamo atletica e si frisci direttamente a dire dicendo signore se andrà in guerra contro i perdiani sarà un massacro Ivar ti guarda incredulo ravide ma è una risata non piacevole da ascoltare è molto inquietante e dice e ti risponde dopo la risata beh sei per spiccarci ragazzino non non ha senso sprecare così tante vite non non so certo implicando che lei verrà ferito ma i i suoi uomini inevitabilmente rischiano di morire ci permetta di di seguirla e offrire un primo soccorso ai feriti non ha senso sprecare dei buoni uomini ragazzi vedi preoccuparsi di morire o di essere feriti è una stronzata colossale se c'è una cosa che io ho imparato che questa società ci ha insegnato che i grandi insegnamenti del edda e delle saghe vedi la nostra vita è già stata scritta non ha senso affannarsi a pensare se verrò ferito se verremo ferite se moriremo tanto è già tutto scritto quindi insomma ma da pronto soccorso e diciamo un guerriero ferito può tornare a combattere di nuovo e scrivere una leggenda ancora più lunga non ha senso morire prima chi li dei lo vogliono Ivar estrae tipo cosa vuoi ottenere Joshua si Joshua strettamente sta cercando di convincere Ivar a diciamo a lasciarlo seguire diciamo ad andare con lui e diciamo lui insieme altrimenti non per il carnevale se Ivar attivamente non vuole tira la mossa find common ground scusami Gav ma se non cioè vuole giocare con te vuole prenderti in giro ma non non ne frega niente non vuole che vieni ok allora quindi tira più sway più che non vuole che venga non lo considera degno neanche di stare lì visto che non fa neanche parte del lord ok tiro tira più sway 2 di 6 più 2 9 allora con 9 il giocatore allora il giocatore del lord sceglie due requisiti che se Joshua mantiene può venire devi scegliere dalla lista di find common ground che deve essere una terza persona garantisce per te cambi specifiche parti dell'accordo puoi decidere di uscire dall'accordo quando non ti va più bene riduci la minaccia che ti sta ponendo adesso pretendi qualcosa adesso di valore vuoi che ti dica tutto quello che lui vuole ottenere da sta faccenda pretendi un trattato dalla sua famiglia devi sceglierne due se lui le fa però in realtà dai va bene che venga ma decido io e poi io devo decidere se accettare o meno esatto allora io ti chiedo innanzitutto di di abbassare un trattato che hai con me quindi ti prendo un trattato sicuramente e scusami un attimo che sto guardando mi devi rivelare la tua full agenda ti prendo un trattato e mi devi dire esattamente cosa vuoi fare cioè senza peli sulla lingua questo è il punto Joshua accetta o no? oh si Joshua accetta ok quindi la Lorda prende un trattato per accettare il fatto che non membri dell'orda stiano tra i piedi durante l'assedio te l'ho segnato e devi dire la tua full agenda quindi prego dice non so quanto no molto potere nella mia famiglia ma sono sicuro che se andrai da uno dei nostri re a facciare che io ti ho infastidito beh sono sicuro che dovranno accettare per forza diciamo quello che voglio onestamente voglio vedere la voglio vedere la nostra casa ancestrale non ci sono mai stato sarebbe troppo pericoloso per uno come Medi e andare da solo ragazzino non solo la vedrai ma la vedrai bruciare dio se dio se dei se la vedrai se la vedrai in tutto il suo splendore va bene va bene vuoi vedere la tua casa te la te la te la adobberò per bene ragazzo questo non importa ma penso che sia penso che penso che quel museo appartenga il passato ma è giusto ricordare il passato per andare avanti sei buffo ragazzino va bene va bene ok puoi venire con noi puoi portare i tuoi amichetti e potete da brave croce rossine tapparci tapparci le ferite nel caso lo ritenete opportuno e cercate di non mettervi tra i piedi e non farvi ammazzare non vogliamo farvi da baglie ovviamente siete voi che dovete fare le baglie a voi fa battutaccia e poi da poi in maniera poco rassicurante molto inquietante si avvicina dà una pacca sulla spalla e prende se ne va ok invece Fisch e Asia dove sono? io no che lui si è quasi tutto trasferito da lei quindi è rimasto lei è rimasta a casa sua e lui che va da lei e sono insieme che fantasticano una vita insieme col bambino quindi sono al al tempio ok la vuoi proprio morta questa donna il bambino che nasce un po' di romanticismo anche capo lol a proposito che fine ha fatto Jenny visto che non l'aveva mai più vista al tempio è morta anche lei o ha fatto in tempo a salvarsi a scappare no ha fatto in tempo a salvarsi a scappare però adesso è in ferma è diventata praticamente solo il cervello della mia nostra famiglia e basta perché di fatto è sulla sedia d'hotel fissa e lei è tornata indietro sta anche lei al tempio no no è tornata indietro quindi non si è sposata con essere al killer mi sa che esatto quindi fondamentalmente voi state vivendo lì sì è una mattina tranquilla il tempio è deserto perché ormai le certezze si sono tutte qualche modo trasferite nelle homeland e dov'è che che stanza avete adibito a vostra casa allora ne abbiamo presa una particolarmente grande quindi magari una di quelle in cui c'era qualche funzione che doveva essere sufficientemente grande da cogliere varie panche e magari una sala di riunioni della parte di amministrativa ma in più Fisch sta in rovina vabbè e Fisch sta buttando giù degli schizzi per farne una tutta lui dove poi c'entranno a trasferire asia a un certo punto e mentre c'è immagino Fisch che sta lavorando quindi ha i progetti per la casa in questa grande sala di riunioni lei entra dentro abbastanza preoccupata e ti dice Fisch tesoro c'è qualcosa che non va e lui mette subito giù la la penna e dice cosa è il demone non l'ho mai sentito così non ti senti bene no no non sono io è il demone guarda vieni la seguo subito lei ti porta in quello che probabilmente è la sala controllo è quasi tutto spento c'è una grossa macchia di sangue per terra dove rinsecchietta che è dove è esploso Erger e lì ci sono vari contattori Geiger e stanno come cantando in coro tutti quanti fortissimo ahia da quanto tempo è così da qualche minuto stamattina era tutto silenzioso perché stanno cantando così tu voi sapevate come funziona il demone che cosa vuole è vero sì dobbiamo fare degli interventi piuttosto grandi per diciamo ricacciare indietro il demone capisco che la spiegazione che ti ho dato può risultarti difficile però in realtà sono proprio delle riparazioni che dobbiamo fare a questa struttura riparazioni però molto è una cosa che puoi fare tu non da solo e non subito quindi direi che adesso la prima cosa da fare è prendere le cose più importanti e spostarci come andarcene io ho mantenuto il demone qui protetto da da che ci siamo noi sacerdotesse non ci siamo mai andate non dobbiamo andarcene per sempre ci spostiamo solo per qualche giorno tu rimani assicuro più lontana io passo un po' di tempo qui e vedo di capire che cosa è successo appena realizzo cosa ha provocato queste alterazioni torno da te e ti ti informo se è stato solo un momento ritorniamo a casa nostra lei non ti vuole lasciare quindi devi senz'altro in qualche modo convincerla ok si traduce nella mossa di prima allora direi di no è più probabilmente un defuse cioè devi rendere la selezione più calma e probabilmente lo stai facendo però con sway ok quindi vado a vedere il mio sway che è un fantastico meno uno perfetto 7 7 poteva andare peggio allora devi scegliere si calma ma c'è un costo oppure durerà poco cioè si calma per poco oppure il pericolo cioè lei si calma ma si manifesta un altro pericolo quale quale fra queste preferisci questo costo deve essere qualcosa di valore o può anche essere qualcosa che mi appartiene è un costo ma che c'è un costo narrativo che scelgo io allora no voglio un costo narrativo che scegli tu quindi lei si tranquillizza ma ha un costo ok mi piace mi piace l'idea che le do qualcosa per fare è un costo narrativo non è che devi darle qualcosa no io che ne so magari pensavo alla foto mia o che ne so al mio martello preferito c'è qualcosa sicuro con te dove devo andare ritorna alle homeland e parla con Jennifer lei sicuramente saprà trovarti un posto sicuro va bene del resto per fortuna sei ritornato ben accetto fra gli altri architetti sì assolutamente andrò lì e vedrò come va la situazione poi appena ho maggiori informazioni torno subito e ti vico a prendere sì mentre parlate c'è questo rumore assordante del ticchettio di tutti quei contattori Geiger messi lì come se fosse un altare lei si gira si tiene lo stomaco e inizia a vomitare per terra il vomito è anche un po' rosso oh mamma io nella nel suo a casa nostra da virgolette ho qualche medicina ancora allora mi è rimasto qualcosa dall'ultima volta che sono andato dai tre ciccioni tu sei eh no tu sei il nido di medicina ancora ah già per il discorso della malattia della paramalattia ah quindi glielo ho attaccata io no no tu hai abbastanza conoscenze per capire che in realtà probabilmente è avvelenamento da radiazioni perché il vomito non è collegato al silenzio servirebbero servirebbero delle medicine contro la radiazioni beh per adesso le dico di rimettersi il più presto possibile le tute quelle antiradiazioni e di usare quella fin quando non arriva le omelette poi io qua cerco di capire che cavolo è successo posso fare poi un confronto con con Jennifer per sapere cioè per mettere insieme due teste e capire esattamente cosa si può fare sì sì assolutamente l'unica cosa è che Fish sa che Asia ha assolutamente bisogno di quelle medicine contro la radiation sickness ne ha bisogno perché è rimasta troppo tempo lì nonostante avesse la tuta e rischia di di superare una soglia di non ritorno ok allora un nuovo piano vengo anche io con lei alle omelette e mi fermo a parlare con Jennifer a proposito di questa cosa ok quindi esatto e poi eventualmente vado ancora più sute e vado dai tre ciccioni sì 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 quindi mettete in fretta e furia in ordine le vostre cose per partire giusto sì esatto ok allora iniziate quindi a incamminarvi verso le omelette tira quindi forge a path quando trovi la strada in terreno pericoloso tira più forza più forza ok aggiornare su cosa c'è io forza ho un bellissimo zero guarda in realtà in realtà vado o non vado no no stavo vedendo se è wasteland survival lo forge a path perché sono molto simili in realtà come attivatore perché wasteland survival dice quando navighi attraverso le wasteland fuori dalla terra dal dare homeland forge a path dice quando trovi una via attraverso terreno pericoloso ma è chiaramente il primo che hai detto solo perché scala su still e io still c'è più probabilmente sì è quello penso che il secondo sia più topico mentre wasteland survival sia più di larga scala quindi 8 vabbè non cambiava ok quindi facciamo wasteland survival devi scegliere un uno dalla dalla lista cioè quello che inizia con you lose something along the way esatto quindi o perdi qualcosa lungo la strada un membro del tuo gruppo si ammala o si ferisce o un ostacolo o una minaccia blocca la tua strada non possiamo fare che il secondo l'abbiamo già detto il terzo blocca la tua strada per tornare indietro perché dice your way back vabbè allora facciamo questo qua e ci pensiamo poi quando ok delega il problema esatto ok voi quindi iniziate a camminare ci vuole cioè dovete sbrigarvi perché tu sai che non c'è tempo da perdere certo però lei immagina anche che sia debole quindi come dire la sostengo io quando sento esatto immagino che fish quindi percorra la strada che conosce meglio per tornare alle homeland ed è quella che passa fondamentalmente vicino alle rotaie abbandonate da lì sbucano fuori delle persone tre o quattro persone maschi e femmine un misto hanno però dei segni neri in faccia come se fossero le pitture tribali tu mi hai sentito parlare probabilmente sono i mangia carbone e ti vedono e dicono sei nel nostro territorio qua beh allora io provo a farli ragionare mi dispiace non volevo arrecarvi di disturbo ho con me una donna in dolce attesa che ha problemi di salute e ho urgenza di raggiungere le persone che la possono curare allora si guardano sparisci però non non puoi più avvicinarti alla stazione nessuno può me ne ricorderò sicuramente chiedo ancora scusa e faccio per riprendere a camminare ok dopo un po' effettivamente torni alle homeland dove sta Jenny visto che ti ha detto che è in firma sulla sedia dell'hotel io me ne immagino all'ultimo piano di un palazzo qualcosa che ovviamente è un palazzo che è ancora intero potrebbe essere quello con le pale ok e lei è andata su su lontana da tutti e sta là e rimugina tutto il giorno su che razza di vita la sta vivendo adesso lei quindi è lì ormai il sole sta tramontando perché ci avete messo una giornata buona ad arrivare alle homeland però ci sei arrivato con Asia a volte dove portate le spalle a volte ce la faceva ha vomitato un'altra volta capisci che ne ha bisogno poi sai di che cosa si tratta tu perché sei un architetto arrivi in cima al palazzo che come sappiamo non ha nessuna difesa se non la bontà delle homeland infatti si è visto quanto sono gentile esatto le pale si stagliano sul cielo e tu era da un po' che non arriva bene nelle homeland si alza un grande vento e tutto sembra più polveroso non tanto non così tanto ancora come quando eri dagli esploratori ma tutto è più sporco di polvere di sabbia fa male anche agli occhi e Jenny è lì seduta sulla sedia della tele che guarda l'orizzonte e adesso lo vedi vedi che la tempesta si sta avvicinando è molto più vicina si vede dalla cima del palazzo ma può essersi avvicinata può essersi avvicinata così tanto da aver inglobato il posto dove gli esploratori ciccioni erano non lo sai ok diciamo che no tu eri da parto opposto era a nord dove le cose stavano ancora bene a parte le radiazioni lol infatti perché mi ricordo che quando sono andato da loro già la vedevo molto lontanamente esatto non sai dire se le hanno addirittura inglobati tutti o cosa sai che adesso è molto più vicina e anzi inizia proprio a sentirsi l'effetto anche lì e Jenny sta guardando sconsolata sulla sua sedia dell'orizzonte e lì gli spalle cosa fai allora prima di tutto le metto Asia si appoggia un attimo al muro siete in cima al palazzo ok le metto le metto dolcemente una mano sulla spalla prima di tutto per non spaventarla perché immagino che non sia quasi più abituata a ricevere visite in quanto per noi architetti è inutile te la te la stringe dolcemente sospirando le dico Jenny come stai è un po' di tempo che mancavo qua dalle omelette vedo che le cose stanno peggiorando sempre di più lei sembra invecchiata vent'anni nonostante sempre solo due mesi ha i capelli completamente bianchi ha perso un sacco di chili ti guarda e dice ho paura cosa può fare paura a una donna come te che è sempre stato tenace e anche testarda nel guidare un sacco di uomini ha paura paura che tutte le nostre conoscenze vadano perdute ti riferisci a questo muro di sabbia che si avvicina sempre di più le cose stanno cambiando nelle homeland noi siamo sempre di meno siamo malati le homeland stanno diventando sempre di più un posto dove non siamo ben accetti ci hanno tu non c'eri ma in questo tempo ci hanno estorto informazioni ci hanno trattato come come subumani io sono stata risparmiata perché per la mia condizione anche quelli del Lorda mi rispettano rispettano i loro vecchi ma potrebbe non durare io io ti giuro che quando avrò risolto il mio problema cercherò di fare di tutto per migliorare la situazione però adesso come adesso la mia urgenza primaria è quella di ti devo lasciare qui Asia per qualche giorno e devo provare a raggiungere gli esploratori perché siete tornati non abbiamo avuto ancora modo di non dico riparare ma neanche fermare il degrado della centrale nucleare anzi a proposito volevo parlarti anche di questo tu sai se possiamo fare qualche azione che in qualche modo diciamo rallenti il degrado perché noi che ci siamo vicini stiamo incominciando a vederne i risultati negativi a livello di salute lei sospira e dice nessuno ne ha più fatto niente da che c'è stato l'incidente si riferisce ovviamente a quando è rimasta inferma ovviamente certo meno male che le cose che era solo una mina artigianale non ha in qualche modo peggiorato le cose ma l'ho visto si può aggiustare ma se si lascia troppo tempo il nucleo si fonde in ogni caso perché siete qua cosa ha Asia lei sta incominciando ad avere vomiti di sangue che sono sicuramente dovuti all'esposizione delle radiazioni e io ho bisogno di lasciarla vicino a qualcuno di fidato e la prima persona che mi viene in mente sei tu Jennifer e per qualche giorno fino a quando non vedo fino a quando non riesco a contattare gli esploratori ammesso che ci siano ancora lei sorride e a questo punto fai un cover secrets per scoprirlo perché tu vuoi avere il surplus di medicina giusto? da quelli là sì quindi tu puoi chiedere come faccio ad avere le surplus di medicina tu puoi ah tra l'altro scusa visto che abbiamo fatto una scena scusate visto che abbiamo fatto una scena sia di di Ivar che di Joshua che di Fish prendete tutti un data ve lo segno io quindi Lord ha due data gli architetti hanno tre data e invece il carnevale ha un data ora tu puoi spendere quanti data vuoi per avere più i data spesi per la mossa scusami una cosa non posso andare direttamente dove c'erano i tre ciccioni e chiedere a loro devo passare per forza tramite la mossa no no semplicemente con la mossa ti dicevo chiaramente come fare ad avere sul plus se vuoi andare dai ciccioni invece è fare diplomazia voglio andare dai ciccioni ok quindi tu lasci Asia lì da Jenny e vai verso sud verso i tre cioè il triunvirato degli esploratori si mi sembravano afferrati sul campo quindi loro sicuramente sicuramente no c'è una grande possibilità che mi possano dare delle risposte ok allora a questo in questo punto stai facendo diplomazia quindi tira più reach ok dammi controllare quanto ho io di reach reach 1 reach 1 ok ma dai che sfiga ok tu inizi fondamentalmente a incamminarti verso verso sud e a un certo punto vedi che tu ti ricordi bene com'era la cioè dov'era il posto viene in qualche modo è stato divorato dalla sabbia ok c'è questo muro di sabbia che esatto c'è questo muro di sabbia che ti impedisce di passare se non in qualche modo schermandosi o con un o con un mezzo al coperto forse ma senza non puoi andare lì no no infatti sicuramente si sono spostati e quindi sei in qualche modo sai che lì non puoi andare non hai idea di dove trovare gli esploratori di dove trovare le medicine anche se forse Jenny o qualche altro architetto sa come fare eh sì se dico che torna indietro e faccia un cover secret con Jenny sì sì va bene perché adesso facciamo la mossa facciamo zoom out facciamo le mosse di famiglia quindi mentre Fish sta tornando indietro innanzitutto vediamo se ci sono non c'è qualche pericolo che si aggrava sulle famiglie cioè mentre c'è Fish che torna indietro e Joshua e Ivar che si preparano all'assalto vediamo come vanno le famiglie quindi partiamo da da Lorda tirami ci stiamo andando in zoom out quindi tirami ehm aspetta che lo trovo eh in want tira più più need tu need hai due need quindi tira più need quindi tiro due need roll due di sei più due giusto sì è l'unico caso in cui se fai alto è male uh vabbè sette non 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 succede niente tutto per adesso è in pace meno male carnevale tira più tre tre un prendi sei diciassette no aspetta aspetta ho fatto di 13 13 con 13 ah no ok aspetta sono in ordine di grandezza ah no ok ritira allora non sapremo mai qual è il primo che chiedo perché potrebbe essere perché se hai 12 cambiava tra l'altro l'unico caso della vita tanto fai doppio sei adesso no 8 8 che vuol dire che è tutto tranquillo ora tira anche gli architetti e tiri più 1 2 3 mille più 6 22 no vabbè 10 10 però è una mini sfiga credo si scegli un need per ogni need uno cioè questo need ti causerà problemi scegli poi un giocatore che ti dice che tipo di problema è quindi scegli qual è il need che ti dà problemi ora direi leadership con la mancanza di jenny anche l'unica figura vagamente carismatica che poteva unirci è è stata anche lei ok quindi scegli un giocatore che ti definisce che tipo di ostacolo hai fra i nostri buoni orde e carnevale esatto me carnevale e orda orda è sempre stata con me nei momenti difficili difficili però d'altra parte nel senso negativo quindi magari si mette qualcosa di buono anche adesso allora quindi l'orda sceglie allora la leadership causa un problema agli architetti di che tipo un membro della famiglia è in pericolo sì una famiglia chiede un aiuto che non puoi dare facilmente un pericolo si manifesta sotto il tuo naso o una tua risorsa finisce allora devo solo decidere il trigger ma non cosa esatto quello poi lo metto io allora ripetemi quella dopo del della famiglia che ti chiede di una famiglia che ti chiede si manifesta un pericolo che non avevi calcolato sono indeciso tra questa qui che ha appena detto e quella prima quella della della famiglia che ti chiede qualcosa vabbè dai mi piace la quarta del pericolo che non avevi calcolato legato alla leadership allora direi che fish tu sei tornato indietro si adesso sono ritornato alla torre lì dove c'è Asia che in qualche modo Jenny sta cercando di curarla il più possibile si sono però riuniti tutti quanti gli architetti che molti sono malati indossano delle mascherine rudimentari o comunque si coprono la bocca e il naso per non diffondere i germi o il virus del silenzio ma c'è uno che non è stato contagiato che è Jeff che era l'architetti quello più carismatico e anche quello che sniffava di più esatto quello che andava spesso dal carnevale non si sa com'è che per adesso salvato dal silenzio era quello che tra l'altro aveva esiliato aveva spinto per esiliare Fish tra l'altro si è infame e lui è lì immagino che siamo molto tristi adesso che il museo non è più un bordello dove va a riformirsi deve andare dove capita esatto non è più così organizzato però tra l'altro sta tutto cadendo a pezzi e infatti Jeff sta facendo un grosso discorso agli architetti rimasti anche quelli con le mascherine eccetera solo Jenny e Asia sono in disparte sentendo dire che lui dice basta dobbiamo andarcene da qui dobbiamo andare alla prima città è l'unico modo per sopravvivere cioè la prima città che incontriamo no no alla prima città quella che la fantomatica prima città dove si dice non ci sia problema di elettricità ma dove nessuno c'è mai andato è nella direzione sbagliata però non era sud ovest sì eh no intervengo io gli dico no il sud è proprio il punto da cui dobbiamo allontanarci più di tutti dobbiamo andare a nord no nord perché c'è la centrale o a est o a ovest cosa ne sai tu io ho viaggiato molto più di te mio caro Jeff mentre tu eri qua a intasarti il naso della robaccia che il carnevale produce io viaggiavo per tutti i luoghi qua attorno alla scoperta di oggetti e situazioni che ci potessero servire quindi ho molto più tu sei solo scappato con la tua donna mentre noi qui siamo rimasti per cercare di far funzionare le cose tu non sai quanto è grave la situazione magari una volta passati dentro la tempesta sbucchiamo fuori è per questo che nessuno la trova la città è proprio perché ne so più di voi che sono riuscito ad andare a prendere i vagoni a informarmi su qual è la situazione della centrale e sapere del muro di sabbia che sta arrivando qui sono io il più qualificato a parlare quindi se qualcuno deve tenere una riunione non sei sicuramente tu quello che lo fa la gente inizia alcuni tossiscono alcuni i pochi che riescono ancora a parlare danno ragione a te o ragione a jeff si formano delle fazioni fondamentalmente quindi tira hold together per resistere a a guerra civile in fighting non so come cioè screzzi interni tiri più il tuo mod il tuo mod attuale il tuo mod attuale è meno 3 però fai uno nexto 7 con 7 le cose non non vanno cioè non vanno in tragedia ma scegli uno un po' di persone se ne vanno perdi reclute che ha senso un'altra famiglia o fazione interviene per aiutarti dagli un trattato oppure il pericolo non è cambiato è soltanto diventato più gestibile ricordagli che non ci sono droghe se se ne vanno dalla homeland mi piacerebbe di più l'ultima il pericolo non è passato ma è soltanto più maleabile iniziamo a fare delle riunioni tutti quanti assieme anziché se ci sono una persona che parla raduniamoci tutti come abbiamo sempre fatto dando la parola a più persone in modo tale che possiamo scegliere tutti insieme qual è il bene di tutti non devi essere né tu a parlare né io la mettete ai voti assolutamente sì esatto un qualche una quello e poi anche se qualcuno vuole parlare che venga lui ok Jeff dice va bene allora ne riparliamo fra due giorni fra due giorni voteremo ufficialmente se restare o andarcene tutti voteranno e avranno un voto e chi ha più voti si fa però quello che è stato stabilito mi sembra giusto mi sembra giusto la gente annuisce e iniziano ad andarsene ora orda tu cosa fai nel frattempo cioè l'orda cosa fa nel frattempo direi che onestamente io penso che andrei diretta all'assalto ok allora chiedo prima al carnevale cosa vuole fare quindi l'assalto lo giochiamo in zoom out o di personaggi nel senso senz'altro si vede come vai in generale a zoom out e poi probabilmente si vedrà in zoom in che cosa fanno i personaggi però almeno sapete visto che comunque è una roba che fa tanta gente com'è che va a finire più o meno com'è altro pensare diciamo dato che sostanzialmente il carnevale ha diciamo ha va bene notizia di questo saldo che sta per per accadere penso che diciamo sostanzialmente cerca di sostanzialmente cerca di rendere le cose più facili sostanzialmente vuole sostanzialmente sabotare alcune delle difese probabilmente hanno tipo un guardiani sono i tipi da eligere una specie di muraglia difensiva o barriere o cose del genere si 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 sono barricati dentro esatto sono proprio barricati e sostanzialmente cerca di sabotare questa cosa magari facendo un buco nascosto dentro dentro la quindi fondamentalmente mandi un po' cioè uno di quelle squadre del carnevale a probabilmente la parte quella più di spie a cercare un po' o a fare un po' di recon per trovare un posto dove infiltrarsi o crearlo effettivamente dal resto tu la conosci quel posto quindi esatto quindi direi addirittura che tiri con vantaggio visto che conosci bene quel posto lì quindi tira più slate con vantaggio 18 benissimo 18 perché non è 18 è 15 però ok scegli nulla cioè ce la fai senza conseguenze esatto nessuno sapeva nel meglio in un modo o nell'altro faccio pervenire questa conoscenza diciamo a diciamo a Joshua a Joshua a Joshua in modo che quando partecipa sa questa cosa ovviamente verrà usata e darà vantaggio durante l'assalto ovviamente mentre allora c'è Ivar che si sta preparando all'assalto immagino giusto? si 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 prendi un po' di persone le armi con cosa si armano vabbè vabbè a parte fucili d'assalto armi corpo a corpo che siano macetti spade o comunque l'equivalente di armi da taglio e granate esplosivi molotov insomma perché gli esplosivi sono semblati così bene for lord si si insomma si si bombano di questo genere di robe principalmente mentre Ivar si sta preparando con lui e i suoi uomini Joshua lì vicino che immagino che se le spie stiano arrivando a dirgli dei buco nel museo quindi che arrivano del resto ormai è normale che ci sia molto più scambio nelle homeland arrivano degli chiaramente degli esploratori perché sono vestiti con questi strati sono anche pieni di sabbia vuol dire che sono andati e sono due ed entrano fondamentalmente nella tenda di Brunilde loro chiedono a Brunilde com'è che avevi loro avevano due trattati sull'interno mi ricordo com'è che li avevano presi li avevano presi con i surplus della della cosa di perché lord ha razziato perché li ha razziati quindi per mantenerli buoni per mantenerli buoni hanno detto va bene però perlomeno abbiamo un favore da chiedervi loro arrivano e chiedono a Brunilde di mantenere fede a a quello che avevano stabilito cioè che si sottomettevano però in qualche modo dopo però potevano chiedere aiuto e per onorare questo patto vogliono un po' delle vostre armi ora tu visto che sei il capo della famiglia puoi decidere cosa fare loro stanno chiedendo un debito tu puoi dire va bene e perdi un trattato con loro si oppure puoi dire no e e se tu hai trattati su di loro ne scarti uno per annullare questa richiesta o dire comunque di no ma ti costa un all together allora a me piace l'idea che gli dice no per diversi motivi molto uno perché immagino che Boronilde adesso vuole certo dimostrare che ha fermezza e vuole conquistare il museo è stufa di è stufa di insubordinati o gente che mette in questione la sua leadership una leadership che comunque lei si ritiene di essere meritata quindi tiro di all together perché non ho trattato tiri mi sembro più il tuo mood aspetta che guardo che il tuo è alto è più 3 quindi che ci sta perché la gente comunque in qualche modo ok anche se Boronilde ha leadership debole sono in qualche modo ferventi che vogliono riconquistarsi i posti è qualcosa che non importi molto lol gli dice no no sì che cosa gli dice gli dice guadagni pure ti dico che guadagnerai surplus morale per questa cosa allora la cosa è questa immaginati di cosi dell'orda c'è lo e così del degli esploratori che vanno lì li fa la richiesta lei li guarda dritta negli occhi scuote la testa estrae una lama e praticamente infilza uno dei due messaggeri l'altro si spaventa inizia a scappare lo blocca lo prende a pugni e e gli dice questa è la mia risposta vai dai tuoi torna dai tuoi soci strisciando e non venire più a pretendere queste a pretendere niente da me lui si pisce addosso si sentono le urla dalla tenda perché l'altro è stato sgozzato e come reagiscono gli altri dell'orda quando vedono il superstite che corre via con le cose tra le gambe dicono ah cacchio c'è alcuni quelli che hanno supportato da sempre Brunilde si impettiscono per dire ah la nostra potente leader quelli magari un po' scettici che dicevano magari erano più vicini all'idea di Ivar o vicini a Bjorn che dicevano ah è una debole dicono cazzo ha dimostrato ha dimostrato di meritare la sua comportata da leader dell'orda infatti tu sei andato a mood 4 che non è possibile quindi ritorni a 3 ma attivi la mossa esatto che mi sembra che attivava anche di conseguenza una cosa del carnevale se non sbaglio no non attiva più perché ho cambiato perché l'hai cambiato proprio adesso lol che sfiga allora dice quando arrivi a 4 scegli un surplus che ti dà un vantaggio lo cancelli e scegli che vantaggio ti dà e dice lo vendi o lo fai fruttare e ti dà un tech lo regali ai tuoi alleati per avere vantaggio di rich fino alla fine dell'era si fai una grande celebrazione hai graspe di vantaggio fino alla fine dell'era finanzi un network di informatori e guadagni slate di vantaggio fino alla fine dell'era investi in te lo sconsiglio perché il gear non l'abbiamo praticamente usato si ti direi una delle prime 1,2,3,4 allora mi piace l'idea di tenere per le balle allora sono tentato onestamente di regalare medicine agli architetti non credo che di effettivamente un surplus no no è solo un modo per sarebbe che le diffondi nelle homeland ma la gente le usa quindi si perdono fondamentalmente cioè la gente per avere sul plus vuol dire che ne hanno anche in più se tu le dici beh le regalo la gente le usa per sé quindi tu le perdi ma guadagni il titolo di Mad Max che è tipo le lancia l'acqua il fatto che tu guadagni rich vuol dire che diventi ben voluto perché la gente dice non ci hanno regalato le medicine però poi le hanno usate basta in mortangio la gente la beve l'acqua non è che se la tiene esatto si è vero che ridere che ridere no scusa no frainteso un po' no perché mi piaceva l'idea di si si lo puoi fare però poi la gente le usa e basta sono finite allora innanzitutto scegli quale sul plus vuoi perdere vuoi sfruttare si si allora quasi qua allora diavolo ho bisogno di un po' di tempo per decidere posso un attimo passare intanto che decido o è impellente o no no predici il tuo tempo ok alla fine ci ho pensato un po' e anche se è banale ho deciso di rinunciare al suo plus di morale per dare insomma un boost all'interno dell'amministrazione in modo tale che galvanizzati dalla presa di posizione di Brunilde e dall'aver dimostrato la sua ferma leadership effettivamente in maniera palese per la prima volta allora c'è tipo una sorta di celebrazione preassalto del del museo e quindi sostanzialmente c'è un giro di idromele fermentato e una sorta di di gara di gare di lotta mani nude insomma i giochi di riti del sabbath sì quelle robe lì esatto tra cui partecipo immagino anche gli architetti il carnevale perché diciamo quando ci sono robe di festa esatto esatto quindi non facciamo quelle cose lì esatto no dovete votare la democrazia lì voi siete voi siete pudici non fate queste robe da barbari Jeff le faceva però si è un po' calmato lui è la piccola nera del gruppo e dicevo questa cosa quindi ti dà vantaggio fino alla fine dell'era di grasp cosa che tra l'altro cade a fagiolo perché vediamo come va l'assalto a cui partecipa sia Ivar che Joshua tra l'altro ok io senza colpo ferire in maniera proprio spudorata per l'assalto uso la mia mossa always out never out gunned tra parentesi non dice per effettivamente quanti ne posso spendere a turno perché sarei quasi tentato di spenderne due invece che uno mi sembra che puoi spenderne quanti ne vuoi infatti infatti solo che quando finiscono quando finiscono basta poi non puoi più spendere rispetto a un'era sì esatto esatto quello è il problema quindi da una parte mi verrebbe voglia di fare tipo il megasborone dall'altra dico però c'ho un'intera era da giocare ancora quindi inizio spendendo un arsenale quindi vado a due non lo segno da me visto che ce l'ho davanti per dismay and overwhelm your foes cioè praticamente li 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 devasto brutto li faccio brutto questo uso e uso questo è come prima cosa ok allora Joshua ti ha anche detto mi sembra del passaggio nel museo giusto? sì diciamo noi in realtà tipo le spill le hanno detto a lui che c'è il passaggio nel museo però non ho capito non ho capito l'idea è che sostanzialmente voleva usare usalo lui per entrare nel museo ah ok quindi tu vai lì e poi ti fai affari tuoi mentre c'è la battaglia sopra sostanzialmente anche magari cercare di procedere in qualche modo la battaglia per l'idea di Joshua ok quindi fondamentalmente cioè Joshua si fa un po' cioè vede come stanno andando le cose ma non è che è lì con Ivar diciamo no sostanzialmente anche perché tipo ha detto ehi aspettate qua i suoi amici loro fanno quindi Ivar non aveva idea del passaggio no no ok perfetto allora Lord ha visto che ha pagato uno di arsenale tira comunque con vantaggio perché tu non hai detto tanto comunque c'è vantaggio su Crasp comunque ce l'hai lo stesso quindi valuta valuta tu se pagare un arsenale adesso perché vantaggio ce l'avresti lo stesso ok mentre oppure per pagarlo per fare un altro degli effetti ma ma scusa dismayo non è direttamente un un trigger cioè funziona solo con un vantaggio no effettivamente se tu lo fai bypassi la mossa effettivamente era era dimmi tu perché mi ricordo che la volta mi hai fatto bypassi la mossa e basta finché stiamo parlando di famiglie PNG la bypassi fine sì infatti il motivo per cui volevo spendere due era per fare proprio lo sborone però secondo me basta uno sì sì basta uno tranquillamente ok dimmi come va la battaglia ci sono quindi i guardiani pochi superstiti rimasti fondamentalmente accampati dentro il museo che l'hanno un po' barricato e arriva questo gruppo di orda sì allora prima che succeda effettivamente la battaglia va bene secondo la fiction il fatto che giusto sia effettivamente lì sì cioè dentro il museo sì dentro il museo sì sì hai fatto slate apposta per entrare infatti il suo interfuge apposta appunto magari tipo per avere una mezzascena prima della battaglia non che esploda diciamo non che cambia ma non che per cambiare le sorte sostanzialmente allora ma da solo sì diciamo di joshua che entra nel museo e sostanzialmente fa una cosa ok l'idea era che diciamo joshua sapendo bene quello che sta per succedere cioè l'orda sta per arrivare e a massacrare tutti spinto anche da un certo idealismo tipico diciamo degli adolescenti sostanzialmente inizia a fare il il doomsayer cioè cerca di avvisare tutti quelli dei guardiani dicendo che l'orda sta per arrivare e diciamo l'unico l'unico modo per uscire quelle vostre vite è quello di arrendervi e scappare via con me stai facendo iconoclast non è che stai cercando di scoprire un segreto dice quando scopri un segreto dell'autorità e la riveli cioè tu hai scoperto che te lo stanno per attaccare il museo e li lo stai rivelando beh sì in questo caso sì aveva effettivamente senso tanto è che le opzioni hanno senso tipo ti aiutano ti diventano tuoi alleati bla 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 quindi tu ti sei introforato dentro e tra l'altro li abbiamo già visti i i guardiani rimasti erano quelli che comunque era andato padare willem fondamentalmente e quindi sono questi guardiani che si erano accampati a supermercato gestiti sempre dalla lupa questa donna sono sono vestiti fondamentalmente con attire da poliziotti o da militari messi insieme a caso hanno barricato alla bene meglio il museo tu sbuchi da dove sei passato tra l'altro qual era il passaggio che hai sfruttato diciamo ho scoperto che c'era un passaggio segreto che collega diciamo maximilia non sapeva e il segreto era morto con lui anche perché lui è scappato da lì probabilmente probabilmente sì e che c'è un passaggio che collega sostanzialmente il giardino di ferro a proprio all'interno del bunker quindi sostanzialmente hanno riscoperto questo passaggio che aveva usato maximilia nei tempi e sostanzialmente Joshua l'ha usato per entrare lì e sbucare proprio dentro il museo quindi tu sbuchi lì e dici questa cosa al gruppetto di guardiani che sa che sta succedendo qualcosa e tu gli dai delle funzioni più precise dicendo guarda che stanno arrivando tirai iconoclast quindi è non devo rullare sway sì quindi più due cinque ogni volta potevo spendere un tech tipo potevi spendere un tech per avere vantaggio se non sbaglio mi puoi farlo ti ho dimenticato di spendere un tech fa vedere spegni un tech per avere vantaggio no perché lo puoi fare nelle mosse di famiglia ah aspetta puoi spendere un data per avere vantaggio su un tiro che abbia senso quando tiri nei personaggi perché information is power dice dice quando il tuo personaggio sfrutta le conoscenze della famiglia puoi spendere un data per avere vantaggio il personaggio mentre il tech serve per le azioni della famiglia che sono su larga scala ah sì vero vero è anche senso quindi se vuoi paga un data vai a zero e tiri un dado in più sì sì sostanzialmente ha senso perché uso tipo tutti i nascondini segreti ma poi il dato che sai è che loro stanno per attaccare effettivamente ok quindi tira un dado e quindi prendi due e quest'altro tiro se non è un altro uno uno di sei è proprio sei hai fatto è incredibile non cambia nulla non è servito fondamentalmente sbuchi fuori cos'è che dici esattamente io dico l'orata sta arrivando l'orata sta arrivando per favore veniti via con me verrete tutti massacrati loro iniziano a dire ma da dove è sbucato questo cosa sta succedendo questo è uno del lord va ucciso la lupa dice di fare silenzio dice no no ascoltiamolo ma è calcolato male i tempi e la battaglia inizia proprio adesso bastano due colpi di ariete fatto di legno la porta del museo con i mobili messi davanti per chiuderla si sfascia lord entra dentro e tu sei lì in mezzo i guardiani posso a questo punto lord dimmi cosa succede no no volevo chiedere un leggero retcon invece dell'ariete io mi immaginavo un veicolo carico di esplosivi lo lasciano andare ok quindi senti questa esplosione gigantesca la porta è esplosa c'è questa rottame di moto che sbuca dalla porta in fiamme come un cavallo infuocato e l'orda assalta il museo dimmi che cosa succede allora da prima invece di assaltare fisicamente sparano una salva con lancia granate di granate e molotov all'interno del palazzo cioè lo lo lanciano grappoli di queste granate anche artigianali e molotov all'interno dopo questa salva passano qualche secondo ed entrano dentro sparando tra virgolette alla cieca cioè qualsiasi cosa che si muove che non sia non abbia le patch dell'orda o le rune viene crivellata e viene fatto in maniera sistematica Ivar è stato molto schietto con i suoi uomini dovete portarmi un trofeo per ognuno ucciso se me ne portate meno di quel cioè lui ha detto voglio tot se non me ne portate tot in base alla popolazione che credo ci sia io ammazzo voi questo è stato quindi meno meno che è molto bravo in matematico si esatto sa calcolare bene proprio a colpo d'occhio ha detto guarda secondo me ci sono tot quindi ognuno di voi mi deve portare tot lo scalpo che sia un dito uno scalpo se non me li portate se non mi portate quelli richiesti io ammazzo voi è un po' un umarello del del massaggio e niente e quindi e Joshua ti trovi in mezzo alla carneficina cosa fai? eh tipo no no beh no diciamo diciamo ce l'ho messo apposta in pericolo Joshua sostanzialmente tipo probabilmente vede che la lupa è tipo l'unica persona che sembra effettivamente avere un po' più di sale in zucca e essenzialmente le dico e tu sei nel mezzo del gran casino cioè non hai modo di parlare cioè nel senso puoi dire qualcosa le urlo ci sono spari esplosioni molotov i guardiani trucidati la lupa che cerca di capire cosa succede tu sei di fianco cioè non tipo le urlo sta giù sostanzialmente cerco di diciamo usando più o meno la mia la mia l'oconigenza che mi è stata data dalla palanimetria del del coso dalle spie di mettere lei a riparo di portarla in salvo ok esatto stai chiaramente facendo un diffuse con steel quick action quindi roll 1 di 6 ah intanto scusami visto che tu cioè nel senso mentre lì ti è esploso una dei cocci di vetro per le molotov e l'esplosione della porta eccetera tu subisci comunque il danno e diventi sanguinante ti segno un pallino lì è un danno grave quindi per per guarirlo dovrei usare il surplus ok hai meno uno di forza ma non ti tangi per ora ok più uno quindi ok uno nove ok scegli uno c'è un costo il pericolo tornerà presto il pericolo è ancora presente ma minaccia qualcun altro metto un costo un costo ok tu quindi riesci effettivamente a portare la la lupa in salvo con te immagino nella stessa direzione del 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 segreto essenzialmente esatto subisci altri colpi di di pistola e sei sei messo molto male subisci anche il danno feverish sicuramente però l'infezione esatto quindi se non se in qualche modo non subisci cure immediate Joshua morirà nelle mani della della lupa che però è l'unica superstite del gran massacro quindi Joshua era una classe medico c'era una classe medico una roba simile credo sì sicuramente c'era una roba simile sì sicuramente anche perché tutti hanno bisogno di medicine e gli unici che ce l'hanno sono l'orda esatto è quello il discorso cioè qua c'è una certa urgenza da parte di tutti io 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 non lo so io vabbè ok l'orda quindi si erge vittoriosa sui cadaveri del sì dei dei guardiani sconfitti che stando a quello che avete visto sono tutti morti uccidati se vuoi effettivamente puoi vedere se non so non so se se fare che direi che per vedere se tu sai che la lupa sei salvata faremo delle mosse poi dopo di famiglia probabilmente se vuoi indagare meglio per adesso in qualche modo Iver si code la vittoria contando le orecchie mozzate e sacrificando i pochi rimasti agonizzanti agli dei si si e bruciando completamente distruggendo un museo c'è proprio l'orario hai cancellato il tuo need di terra perché di fatto l'hai conquistato si questo ti porta il tuo morale a 4 quindi ancora una volta devi scegliere che cosa sacrificare del tuo surplus lol che non lo vuol dire che lo perdi semplicemente ce li hai normali per avere un altro dei vantaggi fino all'era che questa pare sia l'era d'oro del lord si allora io direi a sto punto leggo un attimo perché preferisci avere un tech in modo da avere un tiro di vantaggio dopo vantaggio in reach o vantaggio in grasp scusa vantaggio in reach o vantaggio in slate allora secondo me ha senso che do via progresso per prendere il catch ok ha senso cioè praticamente però a livello di fiction non so bene come immaginarlo beh no immagino che sia se non hai idea immagino che sia visto che gli architetti ti hanno tu hai storto informazioni gli architetti voi sapete che cosa prendere dai cadaveri di utile si si cosa che magari prima non riuscivate a decodificare come roba funzionante invece adesso o anche o dal museo stesso si esatto razziando il museo esatto quindi lo trasformo in tech tu ne hai quattro quindi ricordati che puoi bene usarle per tirare con vantaggio si per le cose di fazione per le mosse di di famiglia quindi mentre c'è si alza un fumo nel museo l'orda si stabilisce lì la lupa e Joshua tagliano via la lupa se lo porta in braccio Joshua e Fish sta organizzando fondamentalmente i voti perché tra un giorno si voterà esatto quindi dovrà convincere probabilmente gli architetti che sono ancora in dubbio su chi votare e con questo si interrompe quest'ultima questa quarta sessione di Black Sky dove vedremo questo fallout del museo e dei voti dei architetti dove porterà le nostre tribù quindi grazie per averci seguito e ci vediamo la prossima volta ciao 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 a tutti notte 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 Grazie a tutti.